Ehi, tu! Lo sapevi che l'Unione Europea può essere veramente come la desideri? Non ci credi? Guarda un po' qua. Questa può essere la tua Europa. O questa qui, tutta pucciosa. Un'Europa piena di cosplayer? Basta chiedere. Certo, le cose potrebbero prendere una brutta piega. Ma anche andare per il verso giusto. Perché sta a te decidere il futuro dell'Unione Europea? Come? Scoprendo chi condivide la tua idea di Europa, votando il candidato giusto. E il gruppo politico che meglio ti rappresenta alle elezioni di questo anno per il Parlamento europeo. Visita il sito yourvotematters.eu e scopri chi vuole la stessa Unione Europea che vuoi tu.